Buonasera a tutti per essere qui con noi, siamo insieme a Stefano Double Pasquini, come si dice la W? Si dice W oppure W come preferisci? Ah W ok, hai fatto una faccia quando ho detto W ok, siamo qui, ci scusiamo per il leggerissimo ritardo proprio per continuare un po' il discorso che abbiamo iniziato ieri con Lorenzo Fiaschi della Galleria Continua e riflettere su quello che sta succedendo durante questa emergenza globale insomma, in particolare riferimento al sistema dell'arte, dell'arte contemporanea, cercando di guardarlo sia a livello italiano e che anche quello che avviene un po' all'estero in questo momento. Quindi abbiamo invitato Stefano Pasquini che consideriamo una sorta di veterano del sistema dell'arte italiano, di solito si parla di veterano in riferimento al Vietnam, no? E quindi però la situazione in Italia è questa, l'abbiamo visto anche ai forum dell'arte contemporanea, cioè una situazione assolutamente così... Da Vietnam. Da Vietnam, ben prima del Covid, cioè in qualche modo il mondo dell'arte italiano è da anni che vive una situazione di, tra virgolette, di emergenza, di ricerca, di risorse, di opportunità. Quindi da un certo punto di vista forse siamo anche più preparati di altri paesi, nel senso che siamo abituati a lavorare sempre in modo così un po' rocambolesco. Però volevo chiedere a Stefano, anche perché tu Stefano sei tra gli organizzatori, diciamo, del forum dell'arte contemporanea che ormai ha visto più edizioni a partire dal 2015, volevo chiederti sia da artista che lavora in Italia e che ha vissuto all'estero sia da organizzatore del forum. Secondo te, se domani potessi risolvere un problema nel sistema dell'arte in Italia, cosa risolveresti? Cosa faresti domani per migliorare la situazione? Una cosa. Una cosa sola. È una domanda difficile. Intanto ti ringrazio per avermi interpellato, ma obiettivamente io mi sento abbastanza un outsider, pur essendo appunto dentro al board del forum dell'arte contemporanea. In realtà io penso che se avessi la bacchetta magica e potessi risolvere in un colpo i problemi dell'arte contemporanea italiana, che come sappiamo appunto sono già stati, sono usciti fuori molto prima della crisi del Covid, ma questa crisi comunque li sta peggiorando, li sta mettendo in, come si dice, sono molto in evidenza diciamo. Li sta esaltando. Esatto. Quello che secondo me si potrebbe fare è analizzare i problemi di autorità e di autoritarismo che ha questo paese, ovvero il fare i conti col passato. Se io con la bacchetta magica potessi migliorare gli ultimi 70 anni della nostra storia sicuramente cercherei di analizzare di più quello che è stato il nostro passato, perché la cultura italiana ha varie problematiche e alcune di queste, tra cui appunto questo autoritarismo implicito che l'essere umano tendenzialmente maschio italiano ha, è proprio questo, nel momento in cui l'italiano medio ottiene un po' di potere ne fa un abuso diciamo. E questa cosa qua, questa cosa qua secondo me proprio si allarga a macchia d'olio a livello politico e si allarga e diventa un problema anche nell'organizzazione delle cose, per cui nell'organizzazione del mondo dell'arte contemporanea. Molto interessante, nel senso che è una chiave di lettura stimolante proprio perché in Italia, anche secondo me, nel mondo dell'arte ci sono tanti orticelli, tante parrocchie e nel momento in cui una persona raggiunge il vertice di questo orticello, il vertice di questa parrocchia, come dici tu, più scivola nell'abuso di potere anche in modo senza accorgersene, in modo anche ingenuo e come dire facendo riferimento solamente ai circoli di amicizie che ha, è una dinamica che condivido molto in realtà e questo crea dei problemi perché crea delle, come dicevi tu, delle famiglie solidali, perché a parole siamo tutti solidali ma non collaborative, cioè chiuse, no? E quindi è una lettura molto interessante e mi viene in mente anche quello che diceva, hai parlato del passato dell'Italia, della cultura in Italia, no? C'era un economista proprio dell'università di Bologna, dove tu abiti, che aveva fatto un libro con l'università dove diceva che il concetto di famiglia aveva penalizzato l'economia italiana, proprio perché anche i grandi industriali e quando devono pensare alla propria successione, automaticamente in Italia fanno riferimento ai figli, sia partire dalla piccola attività al ferramenta fino ad arrivare alla grande azienda e questo crea delle inefficienze perché i figli non è detto che siano all'altezza e soprattutto molto spesso semmai non hanno quella fame, quella voglia di successo che avevano i padri, no? E quindi hai ragione e mi hai acceso proprio una cosa che anch'io credevo, quindi tu domani se potessi risolvere uno dei problemi del mondo dell'arte andresti a spegnere questo autoritarismo che anche nel nostro piccolo crea appunto degli abusi di potere, proprio interessante. Poi per quel che riguarda il forum, io ero uno dei coordinatori dei tavoli quando c'è stato il forum a Bologna nel 2018 e appunto per il mio tavolo mi interessava analizzare il rapporto gallerista-artista-collezionista pensando proprio nel, cioè forzando un po' la mano nel pensare di essere tutti nella stessa barca perché naturalmente stiamo vivendo una crisi che non è una crisi solo in economica ma è anche una crisi di contenuto. Dopodiché, dopo quel forum mi è stato chiesto di entrare nel board e dal 2018 adesso appunto sono uno dei nove membri del board e quando eravamo in lockdown abbiamo organizzato questo forum online proprio per vedere che cosa si poteva fare per la pandemia, cioè per il problema della pandemia e comunque siamo tuttora in alto mare e però devo dire che in questi tre anni ho imparato una cosa che non siamo tutti nella stessa barca ma che ci sono due barche, c'è una barca che naviga tranquilla, capito, beata e anzi probabilmente grazie alla pandemia sta andando più veloce e più leggiatra di prima e c'è un'altra barca, quella dei poveretti che poverini sono di fatto sono un po' come le barche dei migranti che tentano di arrivare a Lampedusa, capito, sono tendenzialmente sono pronte per essere già state affondate, alcuni di noi sono nati già affondati. No, è interessante perché si dice sempre siamo tutti sulla stessa barca, invece tu lavorando, lavorando, avendo questo osservatorio del forum è interessante che tu dica no, in realtà nel mondo dell'arte in Italia ci sono due barche, ma perché ce n'è una che va meglio, cioè senza entrare nello specifico, quali sono le motivazioni per cui c'è una barca che invece sta veleggiando veloce in modo efficace? Guarda, io credo che nel momento in cui un essere umano decide di tentare la professione dell'artista entra già in uno stato che è contraddittorio, ovvero la volontà di intraprendere un percorso di ricerca che è anche un percorso filosofico, però che non può stare fuori dal mondo, cioè deve essere all'interno del mondo e dunque soprattutto negli ultimi vent'anni dove appunto dopo Genova 2001 siamo stati bastonati e dunque il capitalismo ha continuato in perterrito così, per cui negli ultimi vent'anni l'artista è obbligato a essere all'interno del mercato, non può essere fuori dal mercato perché nel momento in cui è fuori dal mercato scusatemi ma penso di essere, ci siamo ancora? Sì sì ci siamo Ecco, chiara pergola, non scrivermi dei messaggi e non telefonarmi perché altrimenti la diretta scompare, dicevo nel momento in cui siamo fuori dal mercato non ci siamo, scompariamo per cui e anche la storia ci vedrà scomparsi, per cui ahimè l'artista intendo in questo intendo me e te, no? outsider che tentiamo capito di combattere il sistema dall'interno è obbligato a essere all'interno, non possiamo essere fuori Ok, no questa, cioè allora io rispetto a questo discorso del sistema ritengo che oggi ci siano degli strumenti anche per essere indipendenti dal sistema è chiaro che uno dei problemi fondamentali è la formazione, cioè insegnare a usare questi strumenti agli artisti, ai curatori, a tutti gli addetti ai lavori che invece nel mondo dell'arte spesso sono improvvisati da altri settori, no? quindi si ritrovano a fare i curatori, a fare gli artisti, a fare i direttori di museo, eccetera, semmai avendo studiato altre cose o semmai avendo studiato anche storia dell'arte ma in un sistema scolastico un po' rimasto alle guerre puniche, no? quindi secondo me il problema, tu hai detto l'autoritarismo che è verissimo però ancora prima dell'autoritarismo c'è la formazione che potrebbe aiutare anche l'autoritarismo, cioè forse avere una formazione più anglosassone, più, meno emotiva rispetto le proprie, i propri reti di amici, le proprie familiari, no? come abbiamo un po' in Italia, servirebbe poi per essere anche meno, più lucidi, meno autoritari e quindi lavorare in modo più efficace io sono rimasto sorpreso perché come Luca Rossi Lab abbiamo criticato, argomentato in modo critico, come sai bene, il lavoro di Marinella Senatore di Palazzo Strozzi e la cosa che a me mi ha colpito di più non è la critica che ci può stare, però è la totale esclusione del dibattito, cioè c'è questo clima quasi da DDR, da regime in una situazione risibile perché siamo qui nel senso che un dialogo potrebbe in teoria aiutare tutti, a far crescere tutti invece c'è questa situazione proprio di omertà quasi Esatto, ma qui sono due le faccende, sono due i fattori importanti in questa omertà, ovvero numero uno il fatto che tanti sono ricattabili per cui la paura di parlare male di qualcuno è data dal fatto che se io parlo male di Marinella, dopo Marinella parla male di me al suo gallerista eccetera eccetera e dunque tutti parlano bene di tutti nel sistema Italia però questo naturalmente è un problema di grosso provincialismo naturalmente grosso provincialismo, però ritorniamo al concetto di famiglia cioè queste sono cose che avvengono in un sistema mafioso esatto un sistema più che mafioso, un sistema un po' machiavellico un po' appunto noi ricordiamoci che Machiavelli è nato in Italia e il principe è stato scritto qui e dunque quella filosofia di fatto si è mantenuta e con lei ha anche questa idea di feudalesimo cioè questa idea di capotribù, di modalità dopodiché quando tu parli di educazione naturalmente io mi sento preso in causa essendo io un docente delle accademie capite, in accademia per cui ti sento anche molto spesso parlare male delle accademie e su alcuni punti non posso che darti ragione dopodiché devo dire che anche le accademie sono in un certo senso divise in due perché l'età dei docenti sono stati scelti in base alle graduatorie d'istituto che pur essendo diciamo non molto trasparenti tendenzialmente sono abbastanza decise nel senso che difficilmente qualcuno che non ha mai fatto una mostra riesce a entrare in accademia tramite una graduatoria d'istituto e poi c'è un'altra modalità che è quella dei concorsi e vi ricordiamo che l'ultimo concorso è stato fatto nel 2002 per entrare come docente in accademia ecco quella modalità ahimè ha fatto entrare tantissime persone che non hanno alcun tipo di esperienza nel mondo dell'arte poi magari sono bravissimi docenti però quello è un po' un caso nel senso che ci sono bravissimi docenti che non hanno esperienza pessimi docenti che hanno tantissima esperienza ecco diciamo che sicuramente la scuola anglosassone avrebbe aiutato nell'organizzazione di una modalità un po' più seria per decidere appunto chi insegna che cosa questo è venuto fuori anche nella diretta che abbiamo fatto con Alberto D'Ambroso che anche lui insegna in accademia e lui diceva che ci sono moltissimi problemi in accademia partendo dall'atteggiamento anche dei ragazzi che sono un po' passivi sono un po' così perduti fino ad arrivare proprio ai libri di testo che non sono aggiornati fino ad arrivare a una forma di non aderenza al presente cioè questi ragazzi dovranno confrontarsi con il nostro presente quindi bisognerebbe dare degli strumenti adatti però non vorrei uscire un po' dal nostro tema di come appunto sta reagendo il sistema dell'arte a questa emergenza globale e volevo chiederti perché tu me ne parlavi abbiamo visto abbiamo detto che in Italia chiaramente i problemi vengono esorbitati da questa emergenza tu hai indicato l'autoritarismo come un elemento fondamentale da risolvere quindi questi piccoli abusi di potere però ti chiedevo questo rispetto alla tua esperienza cosa sta succedendo all'estero cioè vanno meglio o la situazione è simile a quella italiana dunque da quanto ne so perché poi obiettivamente non si può andare da nessuna parte per cui sono stato ad Atene a settembre ma è stato l'unico viaggio all'estero che sono riuscito a fare però fondamentalmente cos'è successo che in realtà la crisi anche a livello internazionale c'era già dal 2008 per cui soprattutto in America alcune dinamiche si sono diciamo estremizzate ma in realtà la crisi forte è stata quella del 2008 che appunto dal 2009 in poi ha visto allargarsi la forbice tra ricchi e poveri a livello mondiale ma anche tra appunto super gallerie per cui ha i Gagosian che ha 20 filiali in giro per il mondo e invece le mid range galleries che erano quelle che in realtà avevano una base solida e di fatto davano da mangiare a un sacco di artisti tra virgolette minori che però in America è una cosa seria cioè quel tipo di business è una cosa seria tu pensi che alcuni palazzi a New York hanno 300 gallerie per cui tu entri in quel palazzo e ci metti un giorno per vedere solo tutte le mostre ecco quel mondo lì piano piano da 2008 è andato scomparendo per cui tantissime mid range galleries hanno chiuso poi naturalmente altre gallerie hanno riaperto però fondamentalmente tra lo spazio no profit quello l'artist run space eccetera e la mega galleria adesso si è creato un enorme vuoto e questo enorme vuoto naturalmente sta dando dei problemi a tantissimi artisti che magari avevano una pletora di collezionismo e comunque campavano del loro lavoro perché poi ricordiamo che in Italia sono pochissimi gli artisti che campano del loro lavoro ma perché la situazione è quella che è mentre invece basta uscire dall'Italia basta andare in Svizzera e in Francia e trovi veramente tantissimi artisti che hanno anche aiuti statali cioè comunque hanno delle istituzioni che li aiutano a mantenere un livello di vita adeguato per la ricerca che fanno certo ma forse io pensavo anche che paradossalmente in Italia essendoci appunto un sistema meno strutturato dove gli artisti sono abituati a fare due lavori quindi a lavorare in accademia o a fare altri lavori questa emergenza paradossalmente li avesse trovati più preparati perché erano già abituati prima a arrangiarsi in diverse modalità però sono riflessioni che non sono provate da riscontri anche perché gli artisti sono molto silenziosi in questa fase infatti stavo guardando questo accenno di messaggio di Chiara Pergola che giustamente mi dice la differenza è fondamentale cioè la differenza è la differenza tra il giovane ragazzo bianco tra parentesi WASP in America che ha un trust fund ovvero un fondo fiduciario l'equivalente del vitalizio che aveva Duchamp e invece uno che non ce l'ha cioè per cui si deve costruire tutto quanto tu considera che appunto anche la qualità del lavoro secondo me negli ultimi vent'anni di cui tu parli spesso è andata calando proprio per quello perché in America in America soprattutto è nato proprio un sistema che è un sistema collaudato che ha proprio un'economia solida che non è spostabile ovvero ragazzo bianco figlio di papà va decide di fare il creativo viene iscritto a Yale a Yale incontra altre persone che immediatamente nel momento in cui esce da Yale ha già la galleria pronta che non solo è pronta per lui ma è anche già pronta con i collezionisti che lo compreranno qualunque cosa lui faccia per cui tu capisci che un artista in questa situazione non ha esattamente la fame che poteva avere un artista degli anni 70 magari cioè indipendentemente da ricco o povero capito? certo è molto interessante quello che dici ma in realtà da queste riflessioni è nato anche il progetto di Luca Rossi no? 12 anni fa quindi io parlavo mi ricordo di nonni genitori foundation esatto esatto che è questo ammortizzatore sociale spontaneo che abbiamo in Italia però è completamente deregolamentato e non porta frutti fondamentalmente perché poi il giovane artista si siede sugli allori e non avendo poi un sistema forte come negli Stati Uniti sparisce nonostante ci sia la nonni genitori foundation quindi esatto e questa è anche una scusami ti interrompo no dicevo che questa è anche una questione di generosità ovvero cioè se tu pensi perché in realtà questa nonni genitori foundation esiste da sempre cioè se tu pensi a Marcel Duchamp appunto che aveva che aveva il suo vitalizio perché la sua famiglia era ricca però quando è che scatta la scintilla quando incontra Man Ray e insieme inventano qualcosa Man Ray invece era figlio di Sarti e si è dovuto fare un gran culo tutta la vita prima ha fatto il grafico dopo quando ha finito di fare il grafico per campare a Parigi faceva il fotografo eccetera poi naturalmente era un talento per cui la fotografia di Man Ray adesso che lui vedeva come in realtà il suo day job adesso è diventata arte pure quella ma in realtà se tu vai a leggere la sua autobiografia è chiarissimo dove finiva l'arte e dove cominciava il day job ecco secondo me è interessante proprio il momento di scintilla perché il momento di scintilla cioè prima della fontana di Duchamp succede poco dopo un anno dopo che incontra Man Ray e si e si e si incontrano proprio concettualmente su vari su vari fronti per cui secondo me se ci fosse se ci fosse un po' più di generosità anche nella volontà di comunicare tra ricchi e poveri del mondo dell'arte in Italia ma anche fuori dall'Italia secondo me sarebbe arricchente per tutti appunto quello che dicevo prima per fare proprio un esempio specifico del problema senatore a Palazzo Strozzi no? cioè io ho fatto una critica dal basso anche se in Italia non la fa nessuno la critica quindi alla fine ci sono solo io e che mi devo sobbarcare questo peso questo honor però la cosa più bella sarebbe inglobare questa critica anche per disinnescarla no? cioè se Arturo Galanzino e Marinella senatore avessero accettato di dialogare con me loro ne sarebbero usciti arricchiti io sarei rimasto arricchito avrei visto delle cose che forse avevo sbagliato no? quindi no no assolutamente anche perché voglio dire tu sei una delle poche persone infatti io per questo ti ho sempre sostenuto che non ha paura di sputtanarsi e questa cosa sembra una stupidaggine capito? ma se tu guardi il successo di Jerry Saltz è lo stesso cioè il successo di Jerry Saltz è proprio quello è proprio la la capacità la volontà di essere in grado di sputtanarsi infatti l'altro giorno ha scritto un tweet che tutti l'hanno massacrato e lui ha detto scusate ho scazzato voglio dire ci sta no? perché no alla fine siamo esseri umani insomma no? sì sì no ci sta però questo questo sistema riportato da New York all'Italia crea questo clima di omertà perché come dici tu nessuno ci sta nel nel c'è questa idea di parlare male no? che invece non è un parlare male ma è un è un sorreggersi a vicenda nel senso quell'incontro tra Duchamp e Man Ray no? è quella scintilla che secondo me può avvenire dialogando no? chiudendosi dentro delle scatole perché poi il risultato qual è? e qui veniamo ai contenuti di cui tu hai accennato che i contenuti vanno sempre più in basso diventano sempre più mediocre quindi dopo anche difficile per l'arte contemporanea ritagliarsi uno spazio avere un pubblico vero avere un seguito politico perché alla fine se tu l'opera d'arte contemporanea diventa un fuoco d'artificio una luminaria che fa sorridere ti fa fare o per pochi secondi e poi non te la ricordi più è ovvio che non ci saranno fondi per l'arte contemporanea non ci sarà un interesse politico e quindi è un cane che si morde la coda no? solo che appunto secondo me il problema per risolvere i contenuti è prima di tutto un problema formativo e divulgativo cioè bisognerebbe formare un gusto con il pubblico che non significa educare il pubblico ma creare uno spazio di opportunità affinché il pubblico si interessi e si appassioni e poi bisognerebbe formare gli artisti che creino progetti di qualità esatto io devo dire che su questo appunto la mia esperienza io abitavo a Londra dal 1992 al 1997 e io lì ho visto questa cosa nascere crescere ed esplodere appunto nel 1992 l'Inghilterra era messa peggio dell'Italia a livello di arte contemporanea nel senso che c'erano poche gallerie c'era c'era un suo mondo ma però c'erano pochi artisti c'era che ne so Anthony Gorme gente così c'era un suo mondo di arte contemporanea ma che non aveva nulla da invidiare a quello italiano nel 1992 cominciano gli YBA ed esplode questa cosa ma io vedo proprio la differenza di reazione tra un governo inglese che istituisce appunto l'Arts Council che spinge la cultura artistica la cultura visiva nel 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 mainstream e arriva ad avere che ne so 16 milioni di telespettatori nel Turner Prize del del 1998 cioè 16 milioni di telespettatori significa più più telespettatori che guardano il Turner Prize a Londra che telespettatori italiani che guardano Sanremo cioè questo ti fa capire della proporzione cioè io per la prima volta in vita mia ho visto code alla Serpentine di gente che faceva un'ora di fila per vedere una mostra d'arte contemporanea a pagamento capito cioè queste cose qua in Italia ce ne sono sì in Italia c'è anche un problema di un passato molto ingombrante no certo quindi che a volte viene vissuto un po' come un feticismo più che come un valore no abbiamo io sono sempre affascinato da Alberto Angela e lo imito anche perché lui riesce veramente senza parlare di niente di interessante però riesce a creare tutta questa narrazione affascinante e se tu ascolti esattamente quello che dice non ti sta dicendo niente di rilevante sono tutti così cose molto didattiche o delle curiosità ma non è che parla alla mia vita non è che mi diciamo mi va a affrontare la mia esistenza e cerca di cambiare la mia esistenza no quindi però c'è questo feticismo del passato che che crea un ingombro per cui semmai il contemporaneo fa ancora più fatica se poi tu non hai progetti incidenti è finita perché se tu hai dei progetti deboli non voglio fare nomi è ovvio che poi dopo le cose rimangono dentro a un circolo autoreferenziale di pochi che se la se la suonano e se la cantano diciamo certo no e poi comunque c'è anche da dire che questa superficialità di 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 fondo non ci fa andare andare a fondo nelle cose e anche a studiare bene quello che sono stati i nostri maestri effettivamente cioè nella prima metà del novecento l'Italia ha avuto veramente dei grandi maestri che sono anche riusciti a captare la modalità di lavoro fregandosene dell'ingombro storico no cioè se tu pensi a un De Dominici se tu pensi a un Boetti se tu pensi a un Piero Manzoni capito cioè loro erano aware cioè avevano avevano la coscienza di stare facendo arte in Italia capito certo però tutti loro sono riusciti a trovare a trovare una modalità leggera che per sviare queste queste problematiche sì perché poi tutte queste problematiche questo clima un po' di omertà di chiusura crea una distrazione per cui poi anche l'artista ha meno tempo ha meno energie per studiare per approfondire cioè uno è più in Italia l'artista è più attento a coltivare le pubbliche relazioni che a fare il lavoro cioè io sono convinto di questo perché sa benissimo che purtroppo è più importante coltivare le pubbliche relazioni che fare un lavoro di qualità questo è un dramma e quindi io queste cose qui le ho dette 12 anni fa e forse qualcosa è cambiato non lo so per adesso continuiamo a dircele e andiamo avanti con G io sono convinto io in realtà sono abbastanza ottimista nel senso che piano piano un pochino le cose stanno stanno leggermente migliorando è un processo lento perché è un processo complicato cioè non è non è una roba che si fa domani certo 10 anni fa 12 anni fa 20 anni fa qualcuno cioè chi chi di dovere poteva per esempio no anziché fare l'X Factor su Sky Art che l'hanno guardato in 7 se tu me lo facevi me lo facevi su Rai 1 alle 20 capito vedrai che l'arte contemporanea attecchiva un po' di più ma questo lo dovevi cioè è vero fare 10 anni fa se lo fai adesso diventa un po' un po' particolare per quel che riguarda il contenuto delle opere cioè il fatto che tanti artisti siano autoreferenziali eccetera volevo un attimo rispondere a un commento che ho notato notato al computer quello naturalmente è una delle problematiche date dal fatto di non avere più artisti che vengono da un background che è nel mondo non dico di un background povero cioè perché io sono figlio di un metalmeccanico ma non è che posso dire ok da bambino facevo la fame capito non è così però sicuramente ho conosciuto delle istanze che la maggior parte dei miei studenti non non ha presente capito e anzi la cosa tristissima è che quelli che invece vengono da ne hanno presente capiscono benissimo tutto e se ne e se ne vanno immediatamente scappano immediatamente dal mondo dell'arte perché hanno capito capiscono che non c'è non c'è modo sì perché il problema non è solo vedere i problemi ma dopo anni le menti migliori forse si stanno dedicando ad altro cioè esatto una persona che 10-15 anni fa si era portato con questo sistema che c'era era già in atto e dice ma qui io scappo non tanto all'estero quanto verso settori più meritocratici più seri dove io posso crescere e questo secondo me infatti quando mi chiedono ma dimmi artisti tu che critichi dimmi artisti che ti piace io dico gli artisti bravi hanno fatto un altro lavoro 10-15 anni fa in Italia purtroppo o se no ci sono delle sacche di resistenza se mai nascoste che sono oberate da questo peso da questi problematiche quindi se mai il lavoro è anche accartocciato è nascosto è sotto sotto la sabbia proprio perché uno si deve deve spendere talmente tante energie nel sopravvivere che dopo quelle energie lì non vanno più nelle opere nelle opere d'arte che dovrebbero essere invece il centro del sistema volevo arrivare a una terza domanda se tu hai qualcosa da aggiungere però lo puoi fare no no dimmi fammi la terza domanda no la terza domanda era su questa sensazione che ho avuto partecipando all'ultimo forum online dell'arte contemporanea che bene o male tutti i discorsi pur provenendo da una galassia differenziata convergevano verso la richiesta di denaro come se qualsiasi soluzione fosse più denaro dal governo ed è paradossale chiedere denaro in una situazione di crisi quando non te l'han dato in situazioni diciamo di non crisi chiederlo oggi che tutte le categorie stanno chiedendo denaro è quasi un'impresa impossibile ma secondo me io questo lo dicevo anche nel 2015 ovviamente ignorato il denaro può anche essere un boomerang perché se tu finanzi un progetto di un artista a New York ma il progetto è debole quell'artista si cristallizza in una forma debole perché dopo dovrà fare solo quello in un certo senso e poi non ottieni nulla anzi dai l'idea dell'arte italiana che ha dei problemi eccetera quindi ecco invece c'è quest'idea nel forum proprio che il denaro può risolvere tutto ecco tu come la vedi è veramente così o ho un po' ragione a dire che forse non è il denaro il primo dei problemi ma io sono convinto che più più che denaro ci vorrebbe della cura della cura il problema della cura sì ci vorrebbe la volontà di fare le cose con più cura il problema della cura è che per fare le cose con cura ci vuole tempo e tu lo sai che cos'è il tempo il tempo è denaro e dunque alla fine finiamo sempre lì certo io personalmente poi questo non è l'opinione del forum ma è l'opinione mia personale io do tanto tanta colpa di quello che è successo negli ultimi vent'anni anzi direi trent'anni alla politica nel senso che noi abbiamo avuto pochissimi politici interessati all'arte all'arte contemporanea in particolare ma all'arte in generale dopo Craxi ahimè veramente nessuno si è preso cura del mondo dell'arte non so se tu sei poco più giovane di me però non so se ti ricordi ma al tempo di Craxi al TG2 c'era un servizio di arte contemporanea tutti i giorni adesso non vediamo non vediamo un servizio di arte contemporanea mai magari una volta ogni due o tre mesi di notte molto tardi comunque no ma infatti io sto parlando del TG di mezzogiorno quello dell'ora di prana di mezzogiorno penso che io non ho mai sentito parlare di arte contemporanea ecco io invece quando ero bambino quando avevo 10-12 anni nei primi anni 80 mi ricordo che appunto si parlava tantissimo di arte contemporanea cioè c'era una mostra di arte contemporanea al TG dell'Una ogni giorno appunto cosa è successo è successo che è entrato un altro individuo che ha cambiato di tanto la politica italiana e lui evidentemente odiava l'arte contemporanea o comunque preferiva che la gente fosse in casa a guardare il grande fratello che non essere nei musei a guardare le arte contemporanea tutto questo ha fatto sì appunto che arriviamo a Conte che dice gli artisti ah e anche grazie ai nostri artisti che ci fanno tanto ridere sono diventati dei giullari un po' deficienti che servono solo a fare un po' di intrattenimento ritorniamo sempre lì cioè ci vuole della cura e la cura è fare le cose con cura fatte bene significa appunto partire dall'educazione finanziare dare anche a chi fa quel tipo di lavoro per la comunità anche lì il senso di comunità è un'altra cosa che in Italia manca tantissimo però appunto chi fa qualcosa di culturale per la comunità dovrebbe essere dovrebbe essere pagato come si deve insomma e di nuovo siamo sempre siamo sempre lì alla fine è un la cura ha bisogno di soldi i soldi hanno bisogno di cura quindi sì servono forse servono tutte queste cose contemporaneamente ecco perché il rischio se no è che il denaro ti spinga se mai verso dei dei burroni verso delle situazioni il rovescio della medaglia di questo è quando per esempio in Olanda il governo olandese dava 2000 euro al mese a una caterva di artisti impressionanti e in cambio non chiedeva niente per cui il fine di tantissimi studenti dell'accademia era quello di farsi dare la borsa di studio che per due anni ti davano 2000 euro e la maggior parte di loro scompariva infatti non abbiamo trovato dei grandissimi artisti perché è il rovescio della medaglia cioè se tu mi riempi di soldi non mi metto a dipingere in studio ma vado da qualche altra parte certo anche un po' il concetto del reddito di cittadinanza cioè che poi sia un po' anche questa un'idea che sia un po' forse un po' renato ecco io mi ricordo che col forum spesso è venuto fuori l'idea del reddito d'artista che è una cosa molto simile a quello che faceva l'Olanda secondo me potrebbe essere una strada anche percorribile potrebbe essere interessante una sorta di borsa di studio per chi per chi se lo merita però poi anche lì di nuovo c'è da fare tanto lavoro eh esatto c'è da fare tanto lavoro rispetto a sì io vedo anche dei commenti di Fabrizio Aiello che scrive questa cosa carina la metto in sovraimpressione i soldi vanno investiti nell'istruzione l'istruzione è un investimento non un costo su questo guarda siamo d'accordo tutti siamo d'accordo tutti cioè chiunque ha a che fare con l'insegnamento dalle maestre delle elementari al peggior professore dell'accademia che non magari ha poca voglia di lavorare comunque su questo su questo siamo d'accordo tutti ed è un investimento sì secondo me le radici le radici del problema per cercare di fare una sintesi sono proprio formazione istruzione da una parte per quanto riguarda gli artisti i curatori i giornalisti dell'arte quindi formare meglio gli addetti ai lavori e dall'altro la divulgazione di cui non ne parla mai nessuno cioè creare un pubblico interessato e appassionato che è fondamentale per avere il seguito politico se no il rischio è di essere veramente il circolo degli scacchi infatti anche perché appunto se noi fossimo in grado di mostrare veramente quello che facciamo cioè la passione viene fuori davvero perché ci sono tantissimi artisti che fanno cose veramente appassionanti io mi ritengo un privilegiato ma non solo perché posso andare in studio a dipingere quando ne ho voglia o quando comunque ho qualche giorno libero ma mi ritengo un privilegiato perché posso vedere come operano i miei colleghi posso avere un dialogo filosofico di ricerca artistica con i miei colleghi e anche essere appunto sorpreso quando vado che ne so al pece a vedere la magnifica mostra di Jacopo Benassi che non sono ancora riuscito ad andare a vedere perché ahimè non ci si può muovere da regione a regione ma io lo so che quella mostra è magnifica e bisogna andarla a vedere certo certo ma è chiaro chiaro tu volevi aggiungere qualcosa sì volevo rispondere a Francesco che dice e poi chi stabilisce chi sia l'artista meritevole ecco questa cosa qua no mi piace non mi piace a me piace no a me fa schifo cioè ricordiamoci che comunque l'arte è una disciplina seria cioè gli esperti d'arte non sono esperti d'arte semplicemente perché hanno studiato arte dalla mattina alla sera però possono dire ok no questo mi fa schifo voglio dire il merito è una cosa che si può misurare un altro dei problemi di questo paese è proprio la quantificazione delle cose si dice sempre i danni sono inquantificabili ma perché sono inquantificabili perché sei tu che non hai voglia di andarli a contare e lo stesso vale per il merito capito alla fine il merito è quantificabile e si può fare anche perché viene quantificato giornalmente nelle graduatorie d'istituto delle accademie per esempio certo io ho qualche mese fa ho lanciato questa provocazione il Rossi Rating che è una sorta di valore che vuole avvicinarsi all'oggettività del valore artistico della singola opera questa è una provocazione che secondo me non sarebbe neanche così strana visto che abbiamo nella ristorazione le stelle Michelin che non sono la Bibbia non sono la Bibbia ma è un riferimento critico no no infatti assolutamente voglio dire io posso andare in una ristorazione crea un dibattito con più guide Michelin cioè quella di Luca Rossi c'è quella di Stefano Pasquini c'è quella di Francesco Bonami questo crea una vitalità per cui poi c'è anche più stimolo alla qualità quindi lo stesso artista semmai è anche più stimolato a creare quei contenuti di qualità di cui abbiamo parlato prima perché senza progetti di qualità è difficile poi rivendicare denaro rivendicare risorse ok quindi esattamente questo è legato molto all'omertà che c'è in Italia che non permette alcun riferimento critico quindi sentivo l'altro giorno Giacomo Nicola Maschietti che diceva prendeva un po' in giro la banana di Maurizio Cattelan che per me è una grande opera d'arte e però poi parlava dell'artista canadese suicida purtroppo che fa questi quadri un po' naif e sono stati valutati un milione di dollari e la banana è stata valutata a 120 mila dollari ecco purtroppo le operazioni sono uguali perché non puoi dire che il quadro va bene e la banana non va bene se non hai un contesto critico di riferimento cioè sono tutte opinioni che hanno così l'incidenza di un bicchiere d'acqua io credo esatto è la stessa cosa di dire Claudio Villa vale di più di Pupo è la stessa cosa a me piace Claudio Villa a te piace Pupo e vabbè ognuno si ascolta quello che vuole ecco però sarebbe interessante avere le motivazioni per cui a te piace Claudio Villa a me piace Pupo cioè questa argomentazione secondo me va a arricchire un po' tutti tutto il sistema invece in Italia non si può fare perché appena la fai vieni escluso e tendi ad essere nascosto ostracizzato bene direi che le cose le abbiamo dette non so se ci sono delle domande in realtà abbiamo 80 al momento 80 persone che ci stanno ascoltando vedo se ci sono altre domande però non ne vedo vedo delle affermazioni Stefano di solito io chiedo una quarta domanda da fare tu a me ecco in attesa di avere se mai altre domande dal pubblico adesso c'è Michele Mariano che ha fatto una domanda però in attesa di rispondere alle domande ti chiedo questa quarta domanda da fare tu a me esatto la mia domanda per te è una domanda ostica nel senso che io ti chiedo ma perché tu senti il bisogno di inserire il tuo fare artistico in questa operazione Luca Rossi quando basterebbe già quella per essere un'operazione artistica ma perché diciamo l'operazione artistica è nata un po' spontaneamente come conseguenza del lavoro critico cioè perché il lavoro critico di Luca Rossi andava già nel 2009 ricordo il primo post del blog era sulla sostenibilità economica degli artisti quindi nel 2000 aprile 2009 un tema iper attuale però a forza di sviluppare queste riflessioni critiche mi è nato un po' in mano un alfabeto un linguaggio quindi quando secondo me quando entro alla fondazione Prada e faccio un progetto clandestino dentro la fondazione Prada io sto suggerendo che c'è una modalità diversa di fare arte c'è un ruolo di artista che ormai è ibrido con quello dello spettatore insomma io credo che i progetti artistici di Luca Rossi contengano ecco contengano tutto il lavoro critico poi ne possiamo parlare eccetera eccetera però credo che questa cosa sia molto importante perché a forza di dire questo non va bene questo non va bene questo non va bene individuare una via può essere interessante quindi per me sono cose molto legate ok vediamo la domanda di di Michele che salutiamo Michele Michele Mariano in questo momento la crisi di contenuti non è forse riconducibile all'incapacità del sistema di farsi megafono dell'immaginazione di un futuro possibile vuoi rispondere tu o rispondo io se vuoi un input te lo do perché poi secondo me io e te fondamentalmente siamo d'accordo perché in realtà il futuro possibile è già qui nel senso che lo vediamo su Instagram ma viene dai non artisti è una creatività che è al di fuori del mondo dell'arte ma che rimane una creatività che è il cuore del nostro essere umano io la chiamo creatività orizzontale tu magari la chiami qualcos'altro però il futuro secondo me è questo il futuro dei linguaggi creativi questi allora il discorso è che da dieci anni questo non era mai successo nella storia da dieci anni ognuno di noi armato di cellulare produce ogni giorno video fotografie testi scritti quindi questa cosa qui non era mai successa nella storia cioè che l'uomo avesse in mano uno strumento che gli facesse fare decine di fotografie ogni giorno video testi quindi questo è un problema con cui l'artista contemporaneo si deve confrontare no quindi c'è questo tsunami di contenuti che l'artista contemporaneo deve affrontare in qualche modo e questo per me è un dato fondamentale lui dice in questo momento la crisi di contenuti non è forse riconducibile l'incapacità del sistema di farsi megafono cioè il problema è che abbiamo tutti in mano un megafono cioè ognuno di noi ha in mano un piccolo megafono il sistema non è interessato a fare il megafono del futuro è come se fossimo in una stanza in cento persone con un megafono tutti con il megafono esatto e tutti parlano contemporaneamente no quindi ognuno ha la sensazione eh sì sì no assolutamente esattamente così dopodiché in quella stanza c'è il gallerista che abbassa il megafono prende il collezionista e lo nasconde in un angoletto capito perché non gliene frega niente di fare da megafono anzi e lo violenta sì no siamo in questa stanza con il megafono in mano parliamo tutti contemporaneamente quindi non si capisce quasi niente e possiamo intuire quello che che dice il nostro amico no quindi quello che la pensa un po' come noi quindi in questo caso tu Stefano noi due siamo d'accordo e sentiamo quello che però siamo d'accordo noi due quindi non ha molto senso ce la cantiamo e ce la suoniamo sì e i social network fanno questo cioè ci mettono in delle bolle a critiche cioè noi interagiamo con persone con cui abbiamo già interagito prima in modo positivo quindi la situazione è questa quindi questa stanza con tutte persone che fanno dirette streaming contemporaneamente e quindi l'artista deve reagire a questa situazione ok però ci sono tante vie per reagire non solo quella mia o quella tua insomma certo su questo io non ho dubbi c'è una domanda di Alessandro Greco vediamo che ci nasconde tanto è lunga allora come si potrebbe inserire l'insegnamento dell'arte contemporanea in maniera 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 in maniera strutturale nella scuola cosa al momento ha delegato alla pura passione dei docenti si potrebbe ipotizzare una scuola secondaria di primo grado di indirizzo artistico come esiste il musicale ah guarda vai cioè secondo me di avere cioè a parte che voglio dire il liceo musicale adesso esiste prima non esisteva il liceo artistico esiste da da tempo in memore per cui insomma il liceo artistico c'è no il problema in realtà di nuovo è quello di dare peso ad alcune discipline tendenzialmente umanistiche che in Italia sono state proprio in virtù fra l'altro di un inseguire una scuola anglosassone che così non fa perché la scuola anglosassone non fa così appunto che e questa cosa ha svilito lo studio della filosofia lo studio dell'arte lo studio della musica eccetera eccetera cioè noi dovremmo secondo me noi dovremmo avere filosofia e arte all'elementare per dire ok questo sicuramente sicuramente svilupperebbe interessi verso queste discipline che sono l'abbiamo visto l'abbiamo visto nel lockdown sono discipline fondamentali voglio dire se la gente non avesse avuto i dischi la musica youtube netflix e instagram che cazzo faceva durante il lockdown mangiava e basta diventavamo tutti 200 chili ma anche per per fare le ricette ci vuole creatività quindi anche nel mangiare ci vuole una sensibilità per fare i video di tiktok per fare i video di tiktok comunque ci vogliono un po' un po' di capacità che sono capacità artistiche che noi noi in accademia insegniamo certo certo no io ho una visione ancora più più radicale cioè credo che l'arte contemporanea sia una disciplina fondamentale sarebbe potenzialmente fondamentale per tutte le altre discipline perché allena la nostra capacità di vedere e di sentire quindi è importante per il medico per il muratore per l'infermiere per il professore per tutti è fondamentale quindi per me effettivamente questa tua idea di inserire l'arte contemporanea nel quotidiano secondo me funzionerebbe molto bene spero che qualcuno la accolga e cominci a farla funzionare sì cioè io avevo proprio in una delle dirette streaming avevo ipotizzato mi sembra con Paolo Zani della Galleria Zero questa idea cioè di creare dei percorsi universitari però lì si parlava già di università dove tu decidi di fare economia di fare diritto di fare zoologia e poi contemporaneamente fai un percorso legato all'arte contemporanea quindi tu hai una marcia in più alla fine cioè sei laureato in ingegneria edile però hai una una laurea non so come chiamarla una chiamiamola laurea in arte contemporanea e questo ti dà una marcia in più perché quando tu fai dei progetti di ingegneria edile hai un occhio di riguardo hai un occhio in più hai una sensibilità che ti permette di avere risultati molto più interessanti quindi io ho una visione molto radicale in questo è chiaro che quando dico queste cose in Italia tutti mi guardano come le mucche guardano il treno che passa perché non sa neanche di quello che sto parlando nel senso non si rendono conto le potenzialità secondo me di questa materia proprio perché abbiamo dei contenuti molto mediocri purtroppo quindi bisogna andare a cercare la qualità con il con il lumicino proprio e quindi secondo me io la introdurrei da subito semmai con come dici tu con discipline più più tra virgolette più diffuse come la filosofia però secondo me anche l'educazione artistica sarebbe una cosa che potrebbe comprendere tutto filosofia vediamo se c'è un'altra domanda siamo già sui 57 minuti quindi insomma l'ultima domanda l'ultima domanda Daniele Ismaele Cabri o pensa ci vorrà più tempo per riflettere ancora per elaborare un'opera non ho capito la domanda ah no infatti è quello che stavo dicendo anch'io mi sono fidato del punto interrogativo però vediamo se c'è un'altra domanda visto che ho detto l'ultima domanda no non vedo domande particolari vediamo questa Alessandro Greco dovrebbe essere rivalutata l'intera percezione della materia che purtroppo viene spesso vista come secondaria certo chiaro è sempre una questione di cura di prendersi cura di cose che magari che sono state trattate con non curanza così come infatti avevo appena letto anche un messaggio sul fatto che in educazione artistica si fanno i cartelloni perché perché viene è un argomento trattato con non curanza diventa qualcos'altro capito e invece fare le cose con cura implica implica un andare in profondità nelle cose che è necessario se vogliamo sintetizzare un po' questo dialogo sicuramente la sintesi è fare le cose con cura indirezzandole alla formazione all'istruzione alla divulgazione e contemporaneamente avere denaro per farle bene però queste due cose sono contemporanee perché se hai solo denaro oggi rischi di cristallizzare dei problemi secondo me certo io vedo che Daniele mi chiede se sto elaborando lavori riguardo a quello che sta succedendo e dunque gli rispondo nel senso che io sto facendo in questo momento sto facendo un progetto che ritengo essere abbastanza orizzontale che si chiama The Book of People dove chiedo a chiunque voglia partecipare di spedirmi un racconto che racconta una persona proprio con l'idea di non dimenticarsi questa persona nel tempo dopodiché io dipingo questa persona faccio un ritratto pittorico perché io fondamentalmente lavoro con la pittura e appunto faccio un ritratto pittorico di questa persona che poi diventerà un libro d'artista con tutti questi ritratti e la descrizione di queste persone l'idea di base di questo lavoro in realtà non è non è non ha a che fare con la pandemia però ha a che fare proprio con con la memoria è un'idea che mi è venuta quando mio padre che adesso soffre di demenfa senile per cui si sta dimenticando le cose io gli chiedevo delle cose sul suo nonno e lui sapeva benissimo tutto sul nonno ma a un certo punto non si ricordava più il nome e questa cosa qua naturalmente lo ha l'ha sorpreso cioè cavoli so tutto mi ricordo benissimo mio nonno la faccia quello che faceva ma non il nome e lì mi è venuta l'idea proprio di mantenere la memoria di persone che non sono famose che non hanno fatto la storia una storia molto interessante è bello perché in questa situazione di pandemia c'è la tendenza a dimenticare le persone cioè al di là dei propri affetti c'è una categoria di persone che noi non vediamo più e quindi è bella questo aspetto vedi questa è una forma di resistenza a uno dei problemi che stiamo vivendo quindi la tua questo progetto è un progetto che cerca di resistere alla perdita della memoria è bello anche il quadro quindi è interessante come tu poi trasformi il racconto in quadro quindi questo è molto curioso cioè è bello da stimolante e poi c'è anche quest'idea che dicevi persone che non hanno fatto la storia in realtà ognuno di noi nel proprio micro può cambiare la propria esistenza in modo molto più rilevante dei grandi capi di Stato quindi una scelta che ognuno di noi fa nella propria vita può valere venti volte quella di Giuseppe Conte o di Emmanuel Macron quindi è bello questo progetto insomma ci terrà in qualche modo aggiornati nel senso che l'hai lanciato così molto curioso l'ho lanciato perché me l'ha chiesto se no è curioso io sono abbastanza modesto questa fiammata che ha creato interesse no io sono tendenzialmente sono modesto rispetto al mio lavoro non sono uno di quegli artisti che sbrodola si sbrodola addosso anch'io per quanto possano pensare chi lo sia in realtà non mi piace farlo neanche a me ok no questo è bello altre cose grazie ti ringrazio Daniele beh direi che abbiamo esaurito un po' i temi non so se Stefano vuoi aggiungere qualcosa però insomma non so no direi che in realtà potremmo andare avanti io e te potremmo andare avanti per altre 4 ore ma credo che non sia caso potremmo fare una performance di 24 ore di diretta esatto anzi chiamiamo anche cosa come si chiama quello delle 24 chiamiamo anche Nico Vacellari che dovrebbe partecipare a queste dirette siamo in trattativa diciamo ah ottimo io spero una lancia perché partecipi anche io spero una lancia in suo favore spero che partecipi anche lui perché sarà arricchente di sicuro sì sì interessante anche rispetto al suo lavoro che semmai negli ultimi anni ha preso anche una via abbastanza indipendente da certe dinamiche certo bene direi che siamo arrivati al termine abbiamo avuto circa sempre 70 spettatori quindi molto soddisfacente e bene ringraziamo tutti io ringrazio Stefano che ci ha dedicato questo tempo io ringrazio te per avermi invitato prego prego è un piacere la tua visione è sempre molto utile e complementare a tutte le altre dirette che stiamo facendo e che andranno avanti anche nel mese di febbraio con molte sorprese devo dire ottimi bene bene buona serata ciao a tutti alla prossima ciao buona serata ciao 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 ciao